Musica Più risorse per la sanità, il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge rivolta al Parlamento obiettivo a aumentare il sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale. Un libro sui diritti dei minori presentata a Palazzo del Pegaso, la pubblicazione della scrittrice via reggina Marina Pratici. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una proposta di legge rivolta alle Camere sul sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dal 2023. I voti a favore sono stati 27, PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, quelli contrari 11, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. In sostanza si chiede al Parlamento di aumentare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato fino a raggiungere una percentuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Vediamo le interviste. Con questa proposta di legge si dice che il sistema sanitario pubblico in Toscana, ma in Italia in generale, è in pericolo e servono due misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione le regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, che la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quelli europei bisogna arrivarci se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici. Ma anche quando li troviamo, oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici, dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. Siamo la prima regione per medici e siamo la quarta regione per infermieri dipendenti pubblici. Questo vuol dire che nelle altre regioni c'è molto privato e quindi questa norma colpisce, ovviamente, prima di tutto le regioni che hanno sistemi pubblici molto forti e sviluppati. Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del messe sanitario. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto richiedere l'utilizzo di queste risorse. Avremmo potuto riterizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità. È evidente che non lo si è voluto fare, però con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello dei servizi sociali e assistenziali. Detto questo, noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge. Ovviamente lo votiamo, siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse, ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spese meglio, vanno riorganizzati, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio, dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria per riorganizzare meglio il territorio, spendere ancora meglio le risorse, organizzare e derogare migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. Siamo molto soddisfatti per l'approvazione di questa proposta di legge che abbiamo fatto per mettere in sicurezza la sanità pubblica e quindi la sanità universale a tutela della salute di tutti i cittadini, tenendo anche conto dell'indice di inflazione e tenendo anche conto dell'anzianità della popolazione. Abbiamo fatto questa proposta in sintonia con altre regioni dove già la proposta di legge è stata o sarà approvata. Dispiace che nell'ambito della votazione in Consiglio regionale della Toscana la minoranza di centrodestra si sia voluta distinguere e ha votato contro tenendo più di conto di quelle che sono le impostazioni e le ragioni di partito che non quelle delle esigenze di salute di tutti i toscani e di tutte le toscane, cosa che invece in Piemonte hanno superato perché pur essendo una regione governata a centrodestra questa legge è stata approvata all'unanimità. Non sono credibili perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente che questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il Governo. Il Governo è il Governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi. Il Governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. Più soldi in sanità ma anche più addetti ai lavori sarebbe sempre auspicabile ma è importante capire queste risorse come vengono spese. Quindi una programmazione, una proprietà della spesa è fondamentale perché se no diventa un pozzo senza fondo, cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. Conseguentemente anche soltanto valutando ciò che è stato, con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno di tendenziale. Nel 2024-2026 con Schillaci e quindi il Governo attuale avremo 1,06 in più. Questo a titoli diciamo reali. Poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto ma imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio perché comunque sia il 7,5% del PIL, di quale PIL? Perché era il 7%, perché economicamente eravamo andati totalmente in basso quindi ovviamente con un PIL basso a parità di spese di investimento era aumentata la percentuale. Quindi è un qualche cosa che non ha senso. E poi una proposta di legge deve essere assolutamente avere un corrispettivo come vengono coperti quei soldi e parlare della lotta all'evasione è il sesso degli angeli, cioè nel senso è vero, però quanto è la cifra reale che riusciamo a recuperare dalla lotta all'evasione? Per cui ci vogliono cifre concrete? Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da Gimbe al riguardo. Negli ultimi dieci anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge del disegno di legno sull'appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera. Cambiamo completamente argomento. Nel segno di Erode, diritti dei minori o diritti minori. Questo è il libro presentato a Palazzo del Pegaso alla presenza, tra l'altro, del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Autrice è Marina Pratici, via Regina, che si è occupata di diritti umani e in particolare di quelli dei minorenni. Sentiamo. Si parla molto opportunamente, meritatamente, di violenza, violenza di genere in primis ed è il caso di parlare, ma soprattutto di arrivare poi ad azioni concrete, parlo anche dal punto di vista della normativa. Ma la violenza di genere nasce poi da come nell'infanzia, nell'adolescenza, siamo abituati a considerare noi stessi quali soggetti portatori diritti. Io vado spesso per la mia professione, ma anche perché vengo invitata nelle scuole. Se io chiedo magari a un liceo classico, un liceo, insomma, quindi a ragazzi già adulti, quasi maggiorenni gli ultimi anni, chiedo, chi di voi conosce la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza? Io ho quasi certezza totale di non avere nemmeno una risposta positiva. Questo perché? Perché c'è una grande ignoranza, in senso etimologico, non conoscenza dei diritti. Di contro mi sento dire spesso, troppo spesso, questo è chiaramente un grande dolore, un forte senso di frustrazione, di fallimento generazionale, parlo della mia generazione in toto, da ragazzine giovanissime, ma è normale se lui mi dice così? Parlo di offese pesanti, di oltraggi, di offese massimamente sessiste, oppure è normale se lui mi tocca, se lui fa questo? Non è normale, ma se noi non diciamo non è normale, a una quattordicenne, a una quindicenne, a una sedicenne, noi prepariamo un terreno fertile, creiamo l'humus per la violenza di genere un domani. Quelli sono i famosi eventi spia, delitti spia di cui tanto si parla, che poi magari in escalation, nel temporale, vanno poi a riesprimersi in quello che è l'atto ultimo, gravissimo, senza ritorno ferale, che è il femminicidio. Ecco dunque l'importanza di fare una cultura dei diritti umani già in giovanissima età. Un adolescente ha il dovere, l'adolescente è già soggetto portatore dei diritti. La nostra Costituzione, rimanendo nel campo nostro, nel diorama normativo italiano, Costituzione è stato costituzionale, è il documento principe del nostro Stato. Si parla chiaramente di cittadini portatori di diritti. La Costituzione non differisce, non fa del distingo fra l'adulto e il minore, fra l'uomo e la donna. Tutti i cittadini italiani sono portatori di diritti. Costituzione, peraltro, nata in vivezza e in sostanza proprio nell'anno della dichiarazione universale dei diritti umani. Intanto permettetemi di ringraziare il Presidente Bugliani per aver voluto qui la presentazione di Marina Pratici, di un libro che ci pone una domanda forte, diritto dei minori o diritti minori. Penso che noi ci siamo posti sempre un obiettivo da quando è iniziata questa legislatura, dare più voce a chi ha meno voce, costruire le condizioni perché tutti possano avere gli stessi diritti, non solo nei comuni più grandi ma anche in quelli più piccoli, non solo in Toscana ma nel resto del mondo. E questa storia, che è una storia vera, tratta da fatti reali di una bimba ex baby prostituta e di un bimbo, bimbo soldato, ci portano a doverci chiedere se davvero la Convenzione dell'ONU del 1989 è stata applicata fino in fondo. Il compito di un'istituzione è quello di farsi queste domande e di costruire le condizioni perché queste risposte arrivino. Noi abbiamo un garante, il garante dell'infanzia, che ha il compito proprio di seguire tutte le vicende che riguardano i bimbi della nostra regione per garantire a tutti gli stessi diritti e aver portato oggi questo libro qui ci pone ancora più attenzione su un tema importante che è un tema che riguasta la nostra terra ma che in tante parti del mondo è ancora più forte che qui da noi. E chiudiamo con la mostra a mercato del tartufo bianco in corso a San Mignato questo weekend e anche il prossimo fine settimana. L'evento è stato presentato nella sede del Consiglio regionale. San Mignato punta sul tartufo, è la 52esima edizione, dunque la dice lunga. Noi organizziamo la mostra quest'anno con una soddisfazione in più. Proprio ieri un nostro chef ha vinto a a Colagna, una gara importante, è andato in finale con Alba e ha vinto. Questo ci dà la carica perché per quest'anno siamo la capitale italiana del tartufo, perlomeno relativamente a questo premio. Il tartufo è la terza gamba dell'economia di San Mignato, per cui noi dobbiamo organizzarla sempre a meglio perché le ambizioni per il nostro tartufo merita di davvero avere un ruolo importante non solo in Toscana ma anche in Italia. Dunque la mostra quest'anno avrà una caratteristica importante, si caratterizzerà per essere allungata, cioè tutto il centro storico sarà interessato. Arriviamo ora fino alla piazza più lontana e con tante iniziative dove appunto la parte fondamentale la farà il tartufo. Il tartufo è tutti i prodotti tipici della nostra bellissima città che è città d'arte, città di cultura, città di tradizione ma anche città di tipicità enogastronomiche importanti. E fra l'altro, come dicevo prima, abbiamo assaminiato la sede dell'Associazione Tartufa e le città del tartufo ci considerano, ci tengono molto in considerazione e conseguentemente noi facciamo di tutto per essere all'attezza. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona sera.